Sette del mattino nel territorio di Vittoria si scatena una violente grandinata. Pioggia e grandini come limoni colpiscono la zona costiera dove insistono centinaia di impianti serricoli. I danni non sono ancora calcolabili, ma a primo acchitto sembrano ingenti e i produttori sono sconvolti. La scena è quella di serre apparentemente intatte, ma con la copertura totalmente bucata dalla grandine che si è scagliata a velocità. Tante le serre danneggiate in maniera irreversibile, come racconto uno degli agricoltori che siamo andati a visitare. Quali danni ha subito da questa grandina? Sono 40.000 metri tutti bucati, plastica, che non si può neanche comprare. Danni di quei normi questo momento? Normi, certo, è normale. Tutte rannolate che sono quanto nuovo, che sono tutte distrutte. Magari quanto parto valla? Grosse. L'anno scorso ha avuto qualche altro danno dovuto al ciclonale? Serre rotte, a terra, plastica rotta, tutto. Insomma danni su danni? Ma un 50.000 euro di danno, l'anno scorso, più questo di avanti. Che ancora insomma non sapete quanti fanno? Non si sa quanto sono. Un altro imprenditore agricolo è venuto a conoscenza dei fatti alla condotta agraria di Vittorio dove si era recato di buon mattino. Io mi trovavo fortunatamente alla condotta agraria, si parlava di tutt'altro, quando viene una signora giustamente mi porta 5 di questi, appena 5, oltre più di una mela, ci siamo resi conti. Madonna che è successo, che è successo? Quando mi ha detto praticamente nella zona in cui, mamma mia, telefona mio figlio, papà, ci siamo. Quindi questo, come avevo detto prima, è l'ultima pezza che va messa nel palto, perfettamente. Ma non è soltanto a fare sta cosa, da ricugirla poi. Non è questione che con un governo del genere le pezze ce le hanno loro, però per i caposi loro, anche loro, le cucinano abbastanza bene. I nostri restano. Per i produttori la grandine di questa mattina è il colpo di grazia, perché in queste condizioni la produzione non potrà andare avanti. Saranno costrette a rifare la copertura nelle serre, ma senza liquidità non avranno la possibilità di affrontare questa nuova spesa. Se c'è un governo, c'è una persona che si interessa per noi, quindi bisogna agire ora, al momento in cui noi abbiamo bisogno di questa natura che non ci lascia stare in base. L'anno scorso con il vento forte e ci ha scoperto le serre, domandine, cose, ma ancora non abbiamo ricevuto niente. Ora c'è stata la grandinata, quindi non lo so fino a che punto uno ha le forze di poter sopravvivere su queste cose atmosferiche che non possiamo fare niente. Ma se c'è uno Stato, delle persone che si possono interessare per noi, che lo facciano, perché altrimenti noi saremmo costretti a morire.